Ho fatto una mastoplastica addittiva, ho deciso di fare questo intervento perché era un complesso che avevo da piccola perché ero completamente piatta, non portavo neanche la prima misura ed era un problema psicologico perché io comunque avevo tutte le mie compagne che si vantavano di questo seno così un po' grande, comunque normale per la loro età, invece io 13 anni, 14 anni, 15 anni, niente, non cresceva, rimaneva sempre lì, l'ho fatto per un complesso perciò mi sono convinta e l'ho fatto, mi sono decisa proprio con la Clinique perché ho sentito questa pubblicità sulla radio, sono andata ad informarmi, tutte persone squisite, persone gentili soprattutto, mi fanno sentire come se tutti conoscessero da anni ed è una cosa molto importante, trovare un ambiente così dolce perché è stato un ambiente molto dolce è importante, è molto importante. So bene con me stessa, so bene in mezzo agli altri, posso mettere di tutto, cosa che prima non facevo perché evitavo anche alcuni indumenti perché anche quello purtroppo ti frena, lo consiglierei a tutte, tutte, tutte proprio. Grazie. 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 Grazie.